Ciao, benvenuti in questo video. Questo che stai vedendo è lo splendido Volvo nuovissimo di Luca, titolare dell'azienda Bonardi di Alba. Oggi Luca è qua in quanto ho appena terminato l'installazione dell'impianto civile. Il primo lavoro che è stato fatto sul Volvo quarta serie è quello di installare la staffa in acciaio inox by trackpoint con l'antenna power sempre by trackpoint. La tenna power by trackpoint si caratterizza in modo particolare per il fatto che è un'antenna già pretarata, ossia un'antenna che puoi anche installare col fai da te. Una volta installata è funzionante. La staffa in acciaio inox sempre è la stessa cosa, la puoi installare col fai da te con il semplice bloccaggio della vite originale. Il cavo come vedi passa in questo modo senza far tagli o buchi. Dopodiché ho fatto l'installazione del CB precedentemente da me modificato, è un Alan 48 dove ho portato le modifiche sulla parte estetica sia della mascherina con la appunto la mascherina cromata by trackpoint, l'illuminazione blu e le manopoli trasparente. In più è stato messo anche l'aumento di potenza per migliorare la distanza. Chiama ora i numeri qua in sovrimpressione allo 0375 98340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di whatsapp. Ti invito anche a guardare il canale youtube trackpoint dove puoi trovare altri video attinenti all'installazione degli impianti CB o di interno. Puoi anche visitare il sito internet dove puoi vedere i vari modelli che è truck-point.com. Da Umberto di Trackpoint ti ringrazio per essere stato con me in questo video, ci vediamo al prossimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!